ahahah hai messo quelle che ci sono uno, due sei buchi? 5 hai messo quelle a forma di stella 5 punti dai 5 c***o metti un par di gober a sta rapa porco che c***o le frega muoviti non le trovo a 5 eh minchia da dove ne ho? una, due, tre, cinque dun e bacher quelle, quelle come si chiamano sono quelle tono nere dentro si allora prenduta dai muoviti un attimo devo cambiare il colore dai che devo stare a dormire ti apongo quel colore l'hai fati nere 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 oi letta eh due 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 ORIGINALI! STANDARD! STANDARD! FINITO! ORIGINALI! NA 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 NO! SI È ROTTA! Grafite! Arrivo, aspetta! Guarda qua eh! Arrivo, arrivo a me! Madonna, quanto è lenta sta macchina! Arrivo, Duke! Duke of Death! Paolo is died! Duke of Death! Paolo! Hi, Gwen, Ripper, Duke! Dai, me la compro anch'io poi! Come sei? Ma se, me la compro adesso! Sto arrivando, mi mancano ancora 6 km! Alex sta sping! Eccolo, imponente Dukes! Imponente Dukes! Eccolo! Eccolo! Acquisto in corso! Eccolo! 6.200, no! Sessanta due mila! No! Ma, fa' un culo! Attenzione, ora, Paolo ce la..ce la..ce la taglia! Oh, è morto! Oh, cazzo! Eccolo qui! Eh, mi ha piccato dentro nella macchina! Sono arrivato! Oh, 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 oh! Ma scusa, vuoi fare la via del fiume con questa? Paolo, Alex! Eh! Vuoi fare la via del fiume con questa? Eh, dai, Paolo! Siamo di sei! Sì! Guarda un po', Alex! Lei è fatta così! Serte! Ehi! Eh! Ma sei a foca? Sì! 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 Ehi, venite! Non è che ci sforza, eh! Alex, mi puoi mandare una foto della tua Duke, per favore? Che poi la faccio come la tua. Oh, Dio, buca! L'hai pure messo dal vivo, Dio, voglia! Comunque, della Duke, lasciate gli spavigliati, gli spavigliati. Ok. Allo seno sei troppo... Ma lo vediamo dopo quella del fiume. Ma con il fiume le... si rompono le auto. No, no, il fiume è nobile, poi. Le macchine le facciamo per quel qui qua. Ma la facciamo quella del fiume dopo? Si, dopo, si, dai. Madonna, è nera la macchina andando nel fango, come si sforza? Chi è che mi fa glotto la voce? C'è tutta la sporca la mia. Anche la mia. Anche la mia. Grazie. No, ma Duke, sta lanciando la mia. Prego. Venite, venite. No, 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 no. Eh, ma che la pula, perché? All'imbarco. No, la retromarcia. Anche la mia. Non lo non c'è, ma non lo abbia mai l'altra. Hai pochè, per ogni cosa. Ti dobbiamo arrivare aderci. Ehi. Ho la loro res Dollar Company. Non ho oltre che la fut bravi. Si. Un altroray Ehi! Sì! Se matano! Grazie! Marti madrasso! Guarda lo che amato, è tutta sporca, guarda! Come fanno a restare così pulita? Tutti qua! Ho buttato il bagagio giù! Vabbè! Alex dovremmo fare un video per ogni strada che trovi eh allora se me devi fare il mi piace di video! Meglio! Dai meglio muovervi! Sta arrivando aspettatemi ho perso un pezzo! No! Come distrutto? Come distrutto? Ma che giusto ne so che qua non ho perso niente l'acqua è bassa? No! Rossa! Perchè? Levatevi che se non becca la mia! Uff! La mia no! Tiè Rossa! Andrà via! Cazzo! Eh allora la mia macchina però il vino si può passare No! Rossa! I think we can handle it Arriva adesso anche la mia Morse Mutual, we're here to help! Ok Ok ha subito una rapina per 10.000 euro, ha subito il raffinatore Eh che ti ha rapinato cos'ha? Andiamo andiamo! Aspettiamo la mia macchina! Eh che ti ha rapinato cos'ha? Andiamo regolando 10.000 euro, si? Buon anno? No no! Sì! Sì! che è stato a prendermi i soldi? Vieni qua, ammazzalo Paolo, guarda se ti ha dato 10 mila mamma lì, è ancora vivo, ammazzalo, 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 ammazzalo. Oh, Focasi, le vanno a fregarmi i piedi, che cazzo, no? Non ho la chiamato data, ma sì, il albinatore è mandato a uccidere Focasi, è stato ucciso. Non trovo i conti, però. Grazie, Fri. Dai, sedete giù che andiamo. Non so dove sono i soldi.